Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Eh? Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino! Fai assaggiare un pezzettino? Ma che bontà! Ma carone, ma hai provocato e io li distrugga adesso, ma carone. Io me ne manco. Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è? Ma che cos'è? Benvenuti nella cucina di Rosso Peperoncino. In collaborazione con 8800TV, oggi presenteremo le pennette in vellutata di peperone con pancetta. Allora, cosa iniziamo a fare? Presentiamo i nostri ingredienti. Le dosi le troverete poi sul sito di Rosso Peperoncino. Abbiamo bisogno di un peperone rosso. Cipolla, peperoncini, noce moscata, pepe nero. Sale e olio extravergine di oliva, della panna da cucina, le pennette rigate, del parmigiano e della pancetta. Iniziamo quindi a preparare la vellutata di peperoni. Olio extravergine d'oliva in una padella. E tagliamo a julienne mezza cipolla. Mettiamo a rosolare. Grossolanamente. Non c'è bisogno di essere precisi. E intanto andiamo a tagliare il nostro peperone rosso, sempre grossolanamente. E appena la cipolla sta rosolando, aggiungiamo la pancetta. Successivamente aggiungiamo il nostro peperone rosso alla pancetta e aggiungiamo dell'acqua. Così il peperone si cucinerà nell'acqua e risulterà molto leggero poi nella vellutata. Mentre i nostri peperoni stanno cucinando andiamo a buttare la pasta perché l'acqua sta già bollendo. Appena i nostri peperoni sono già morbidi perché noi li andiamo a provare con una forchetta se sono cotti, andiamo a metterli in un contenitore e aggiungiamo la panna da cucina. La noce foscata e il pepe nero e un pizzico di peperoncino, naturalmente non guasta mai. E con un frullatore di immersione andiamo a frullare il composto. Andiamo a mettere la nostra vellutata in un'altra padella e buttiamo le pennette. Una spolverata di parmigiano e il mantecchiamo. Piatto Io aggiungerei un tocco personale mettendo un po' di glassa di aceto balsamico. Il nostro piatto, le pennette, il mantecchetto di peperoni e franzetta, è pronto. Questa era la prima ricetta di rosso peperoncino. Vi aspetto alle prossime ricette su www.rossopeperoncino.it e su www.8800tv.it A presto!